50 comuni al voto, due capoluoghi di provincia di Peseo, una roadmap già tracciata dal Consiglio dei Ministri. Sarà Election Day anche in Puglia, accorpando il rinnovo delle amministrazioni e referendum sulla giustizia. La data è quella del 12 giugno prossimo, fissando i ballottaggi a domenica 26 e archiviando la campagna elettorale d'agosto delle ultime due tornate causa emergenza sanitaria. Teste di serie. Restano Barletta e Taranto nel primo caso. Le alleanze a sinistra hanno fatto fibrillare il PD e convinto Enrico Letta ad inviare Francesco Boccia come commissario ad acta del partito pugliese, ufficialmente per riaprire il congresso. Al fianco di Mino Cannito invece stavolta ci sono i simboli storici del centrodestra eppure i big. Giorgia Meloni in primis oggi in città, a Taranto. Sono almeno in quattro a frapporsi tra Rinaldo Melucci e la possibilità di un bis a Palazzo di Città, nonostante l'intesa con i 5 stelle, la grande alleanza. Schiera Walter Musillo, ma in corsa ci sono anche l'ex azzurro Eugenio Filograna, il giornalista Luigi Abate e il consigliere comunale uscente Massimo Battista, eletto con il Movimento Castellaneta, Martina Franca e Sava. Le altre partite da non perdere di vista, 24 i centri al volto in Salento, a partire da Galatina, 1 nel Brindisino, San Michele e Salentino, 11 i fronti aperti nel Barese. Ad Alberobello il centrosinistra, Andrae Gazebo Domenica, a Bitonto, potrebbero non servire, ma neppure il centrodestra ha sciolto la riserva, al rinnovo anche Molfetta, Giovinazzo e Gravina.